sul voto sul Rousseau, sulle regionali in Emilia e in Calabria. Come risponde lei alle critiche che sono arrivate da diversi parlamentari sul fatto che lei abbia deciso questo voto senza consultarli? Ultima in ordine di tempo la vicepresidente della Camera Spadone. Il voto è sempre vincolante, altrimenti che lo facciamo a fare? Voglio essere molto chiaro su questo. 500 firme, noi abbiamo 100.000 iscritti che oggi si esprimeranno, ed è grazie a quei 100.000 iscritti che sono attivisti che noi stiamo qua, abbiamo bisogno di un po' di tempo come movimento per rigenerare obiettivi, organizzazione e identità. Ma se c'è un'elezione, noi siamo impegnati in una campagna elettorale ogni due mesi, questo è impossibile. Abbiamo chiesto una cosa, e dico noi perché non l'ho chiesto solo io, questo post lo ha letto Beppe Grillo, ci abbiamo lavorato con Beppe Grillo, Davide Casaleggio. Vogliamo fermare e dare uno stand-by al movimento da qui a marzo oppure no? Decideranno gli iscritti su questo. Io non ho capito perché da sette anni, anzi da dieci anni a questa parte, ogni volta che il movimento decide in rete si parla di spaccatura. Ci poteva essere una spaccatura se avessi deciso da solo di bloccare le elezioni, ma oggi sono gli iscritti che si stanno esprimendo ed è a loro che dobbiamo tutto. E se ci sono 500 persone che dal territorio hanno detto presentiamoci, voteranno sì oggi, voteranno no. Chi invece vuole votare per bloccare il processo legato agli stati, dice che gli stati generali si possono fare anche con le elezioni, voterà l'altra cosa. Se non sarà così vorrà dire che avremo bisogno un po' più di tempo per fare gli stati generali. È molto semplice, però questo vuol dire che comunque continueremo a disperdere energie che nei prossimi tre mesi ci possono permettere di risolvere un po' di problemi all'interno del Movimento 5 Stelle, che sicuramente in un momento di difficoltà, e lo ammetto prima di tutto io, c'è bisogno di mettere a posto un po' di cose. Grazie a tutti.